ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco e cocaine molteni dental srl ultimo aggiornamento 14 aprile 2022 cosa è cocaina confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere cocaine durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa è cocaina e cocaina un farmaco a base del principio attivo lidocaina cloridrato appartenente alla categoria degli anestetici locali e nello specifico amidi è commercializzato in italia dall'azienda molteni dental srl e cocaina può essere prescritto con ricetta uspl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle regioni o delle province autonome confezioni e cocaine 10g barra 100 ml spray per mucosa orale flacone nebuliz 60 ml e cocaine 20 mg barra ml in it ci barra tren 1 50.000 50 cartucce 1,8 ml e cocaine 20 mg barra ml in it ci barra tren 1 80.000 50 cartucce 1,8 ml e cocaine in it 50 cartucce 1,8 ml e cocaine in it 50 cartucce 1,8 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare molteni dental srl ricetta uspl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle regioni o delle province autonome classe c principio attivo l'idocaina cloridrato gruppo terapeutico anestetici locali forma farmaceutica soluzione indicazioni tutti gli interventi conservativi e chirurgici in odontostomatologia e cocaine con adrenalina 1 100 000 1 80 000 1 50 000 ha indicato quando si desidera prolungare la durata dell'anestesia regionale o quando ha necessario ottenere una ischemia locale la preparazione topica con nebulizzatore è indicata in odontoiatria per eliminazione del dolore alla puntura incisione di ascessi superficiali piccoli interventi chirurgici estirpazione di schegge d'osso residui di radici mobili eccetera estrazione di denti decidui e di denti mobili preparazione di piccole cavità di tartarizzazione cura delle tasche paradontosi eliminazione degli urti di vomito in occasione di presa di impronte e nelle radiografie impiego di materiali plastici e rapido indurimento e nell'adattamento in dolore di protesi applicazione di ponti e corone posologia cartucce 1 2 ml op in relazione alle esigenze dell'intervento per infiltrazione oppure per blocco nervoso periferico la soluzione anestetica deve essere iniettata in piccole dosi con una velocità di somministrazione di circa 1 ml barra minuto previ a un'appropriata aspirazione nell'adulto sano non pretrattato con sedativi le dosi massime in singola somministrazione o in pià somministrazioni ripetuti in un tempo inferiore ai 120 minuti sono di complessivi 300 mg di lidocaina cloridrato e 0,2 mg di adrenalina pari a 8,3 cartucce di cocaina senza vaso costrittore 8,3 cartucce di cocaina con adrenalina 1 100 000 1 80 000 5,5 cartucce di cocaina con adrenalina 1 50 000 in pediatria ridurre la dose proporzionalmente al peso e all'età nebulizzatore un'unica pressione sulla testata di spruzzo libera automaticamente una dosata quantità di cocaina che non contiene gas propellente ogni spruzzo corrisponde a 100 i un quarto l di soluzione pari a circa 10 mg di lidocaina cloridrato si raccomanda come limite massimo la somministrazione di due spruzzi per quadrante di mucosa orale non si deve in nessun caso superare tre spruzzi per quadrante in un intervallo di un'ora e mezzo durante l'impiego la bomboletta va tenuta possibilmente in posizione verticale in caso di applicazione al limite tra palato duro e molle occorre disporre il capo del paziente ed il beccuccio erogatore in modo tale da evitare l'inalazione da parte del paziente non spruzzare negli occhi non usare in età pediatrica controindicazioni ipersensibilità già nota verso i componenti il prodotto contenente vasocostrittore ha generalmente controindicato nei cardiopatici nei soggetti affetti da gravi arteriopatie o ipertensione in quelli con manifestazioni ischemiche di qualsiasi natura o affetti da emicrania essenziale ipertiroidismo diabete ipertrofia prostatica glaucoma d'angolo acuto come anche nei nefropatici avvertenze speciali e precauzioni di impiego l'efficacia e la sicurezza dell'uso della lidocaina in campo tontoiatrico dipendono dal dosaggio adeguato dall'appropriata tecnica di somministrazione e dalle opportune precauzioni le preparazioni iniettabili devono essere usate con assoluta cautela in soggetti in corso di trattamento con antidepressivi ma inibitori vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione interazioni clinicamente significative si possono avere per le formulazioni contenenti adrenalina con gli inibitori della mao e gli antidepressivi triciclici grave ipertensione o con le fenotiazine e i botirofenoni possibile vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it assumere cocain durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere cocain durante la gravidanza e l'allattamento il prodotto ha controindicato nei casi di gravidanza accertata o presunta vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari alle dosi consigliate il farmaco non influenza significativamente per lungo tempo la capacità di attenzione effetti indesiderati gli effetti indesiderati che possono insorgere con la somministrazione della lidocaina sono simili e quelli osservabili con altri anestetici locali di tipo anidico questi effetti sono generalmente dose dipendenti e possono derivare da alti livelli plasmatici vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio le emergenze con l'uso degli anestetici locali sono generalmente da mettere in relazione con alti livelli plasmatici determinati da accidentale iniezione endovinosa trattamento del sovradosaggio al primo segno di allarme occorre interrompere la somministrazione porre il paziente in posizione orizzontale ed assicurarne la pervietà delle vie aeree somministrando gli ossigeno in caso di dispnea grave o effettuando la ventilazione artificiale l'uso di analettici pulvari deve essere evitato per non aggravare la situazione aumentando il consumo di ossigeno eventuali convulsioni possono essere controllate con l'uso di diazepam in dose di 10 20 mg per via enlovinosa sono sconsigliabili invece i barbiturici che possono accentuare la depressione pulvare il circolo può essere sostenuto con la somministrazione di cortisonici in dosi appropriate per via endovinosa possono aggiungersi soluzioni diluite di alfa beta stimolanti ad azione vasocostrittrice methen termina metaraminolo ed altri o di solfato di atropina come antiacidosi co può essere impiegato il bicarbonato di sodio in concentrazioni opportune per via endovinosa proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche la lidocaina metabolizzata rapidamente dal fegato i principali metaboliti sono la monotil glicin xylidide la glicin xylidide i metaboliti e la parte di farmaco non metabolizzata sono eliminati per via renale dati preclinici di sicurezza elenco degli accipienti farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di cocaina base di lidocaina cloridrato sono i cocain xiluminol fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmama max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato grazie per aver guardato il video